Cercasi una nuova casa per l'archivio storico. Il comune di Arezzo è infatti alla ricerca di un nuovo edificio che lo ospiti, in quanto quella attuale di Via della Fiorandola non è più sufficiente. L'amministrazione dunque intende individuare soluzioni adeguate al fine di mantenere a disposizione dei cittadini, degli studiosi e di tutti coloro che intendano consultarlo, il materiale documentale in suo possesso. È uscito un avviso pubblico che per reperire un immobile nel perimetro urbano di Arezzo, nelle zone limitrofe, perché l'archivio storico in Via della Fiorandola è saturo. Siamo in affitto, paghiamo 90.000 euro l'anno, per cui vogliamo che l'archivio diventi di proprietà comunale. Abbiamo bisogno di un immobile, di un capannone di intorno ai 2.000 metri quadrati con determinate caratteristiche che sono tutte evidenziate nell'avviso pubblico. Questo perché l'archivio storico non deve essere solo di consultazione dei dipendenti comunali, ma anche dell'intera cittadina, perché rappresenta un po' la storia della città, le tradizioni, per cui vogliamo che sia consultabile a tutti. Se un archivio storico non ha gli spazi adeguati, le carte non sono in ordine, i fascicoli non sono in ordine, non è consultabile. Abbiamo deciso di dargli importanza proprio perché rappresenta la storia della città, per cui aspettiamo le proposte dei cittadini, non abbiamo messo un'indicazione di prezzo, perché poi valuteremo anche in base alle caratteristiche dell'immobile.